Il tema dell'accessibilità ai monumenti è un grande tema sociale è un tema di giustizia, di equità fra i cittadini noi ci stiamo impegnando su più fronti ecco questo è un piccolo tassello importante in questo senso anche perché il Colosseo è un simbolo di tutta la nazione di tutta l'Italia quando pensiamo alla bellezza dei nostri monumenti non possiamo non pensare anche al Colosseo Oggi poi è una giornata della scrittura Assolutamente, è importante Grazie 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 Grazie